Il 2024 non sarà l'anno delle aste per le concessioni balneari chieste dall'Europa dopo la direttiva Bolkestein del 2006. Al momento non esiste un atto normativo del governo in materia e così sono i comuni che, sfruttando i poteri gestionali dei beni demaniali di cui godono, fanno il bello e il cattivo tempo per i gestori degli stabilimenti sulla costa. Ogni singola amministrazione ha predisposto una propria delibera che prende fondamento dalla legge Draghi del 2022. Da massa a Grosseto tutti i sindaci hanno firmato, ma le delibere possono essere impugnate di fronte al TAR. Un elemento che fa scattare un allarme, potrebbero piovere ricorsi a valanga. Il dato certo è che si naviga tra incertezze normative e organizzative. C'è una spaccatura, nonostante il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno, abbia assicurato una soluzione. Sui balneari, ha detto, abbiamo due obiettivi, scongiurare la procedura di infrazione e dare certezze agli operatori. In Toscana si registra una situazione a macchia di leopardo. Il comune di Pisa corre ai ripari per evitare eventuali ricorsi. Aspetta una decisione del governo e si astiene dal produrre una delibera. Questo significa che ci sarà una continuità nel lavoro degli attuali 70 balneari sul litorale pisano, di almeno uno o due anni, fino al 2025. L'amministrazione di Rio all'Isola d'Elba, con il sindaco Marco Corsini, ha invece deciso di attivare da subito la procedura per le gare di affidamento. Il primo cittadino dice di scontare il prezzo dell'impopolarità, ma che la concorrenza fa bene al territorio e che potrà essere lo stimolo ad offrire condizioni di uso migliore del bene pubblico a vantaggio di tutti.